Il riso italiano lo tocca perché andiamo ad importare 80.000 tonnellate di riso dal Vietnam e quale riso avrà sicuramente dei costi inferiori, ma non è solo una questione di prezzo, non è solo una questione di costo, è una questione anche di qualità di questo riso. Le risaie del Vietnam sono irrorate con le acque del fiume Mekong, il fiume Mekong è uno dei dieci fiumi più inquinati al mondo. Abbiamo un'Europa schizofrenica da una parte, impone alle nostre aziende dei limiti nell'utilizzo della plastica e dall'altra parte chiude accordi commerciali con paesi che la tutela dell'ambiente non sa nemmeno cosa sono. Non parliamo poi dei diritti umani dove, appena prima dell'intervento ieri sul Vietnam, si è parlato di Inghilterra e qualche collega deputato che poi oggi ha votato a favore per l'accordo con il Vietnam sosteneva che dobbiamo essere duri contro l'Inghilterra soprattutto ed anche per quello che riguarda l'aspetto sui diritti umani. Figuriamoci un'Inghilterra con i diritti umani e poi oggi invece vanno a votare un accordo con il Vietnam dove i diritti umani sono un optional, io sono stato in missione in Vietnam e ciò che cosa è. Lì non c'è la libertà di espressione, non c'è il diritto di parola, lì non c'è la possibilità di esprimere la propria opinione perché ti arrestano e ti arrestano e violano il codice penale e se violano il codice penale vai in galera, in galera c'è la tortura, ci sono i lavori forzati, c'è la pena di morte, cioè siamo a livelli veramente molto arretrati. Ma al di là di questo un impegno chiaro, tangibile da parte di questo Paese nel chiudere l'accordo, prima di chiudere l'accordo, nel voler migliorare in questo senso, non c'è stato. Perché la domanda chiara ed esplicita del Presidente della mia Commissione, Inta, nel voler chiedere di liberare le dieci persone carcerate per motivi politici, la risposta è stata chiara, netta, intransigente e senza possibilità di interpretazione. Queste persone sono state arrestate perché hanno violato il codice penale e quindi giustamente rimangono in carcere. Ma hanno espresso un'opinione diversa da quella del Partito Comunista, che è il Partito Unico, e del governo vietnamita. Siamo a questi livelli, per non parlare dell'ambiente. Abbiamo continuamente situazioni irriverenti per dir poco nei confronti della tutela dell'ambiente, non sanno che cos'è la tutela dell'ambiente. E qui invece ne abbiamo fatto una battaglia con il New Green Deal, giustamente i cambiamenti climatici e tutto quello che serve per migliorare le condizioni del nostro pianeta, guardando avanti ovviamente per tutelare i nostri figli e i nostri nipoti e quelli che verranno dopo di noi. E poi chiudiamo accordi con un paese che non è interessato a tutelare l'ambiente. Il Vietnam è uno di quei paesi che ha il 40% di totale nell'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da carbone. E qui spendiamo soldi per chiudere le centrali a carbone. Ma proprio l'esatto contrario di quello che stiamo facendo qui. E chiudiamo accordi. E non pretendiamo che in questo accordo ci sia un minimo segnale da parte del governo vietnamita nel scegliere la strada che abbiamo scelto noi. Oltre a generare concorrenza sleale, cornuti e maziati, consentitemi di dirlo.